Avete programmi per questo 25 aprile? Farete qualcosa? Oggi mi sa che restiamo a casa Uccinerete qualcosa di particolare? No, oggi proprio no, perché non è reggiatto Sal mangiare bisogna andare piano Mia moglie è qui, veniamo da Roma Ah, non siete di Fano? Siete in vacanza? Vai, alza, esattamente Come mai avete scelto di venire in vacanza a Fano? Io sono di origine marchigiana, di Macerata Quindi i miei genitori di Arcevia e Castella del Mondo Quindi, niente, abbiamo un po' di parecchi anni che veniamo qui sulla riviera E lo apprezziamo bene Qual è il programma per il vostro 25 aprile? Fare una passeggiata Passeggiata al mare, eh? Passeggiata In campagna E in tutta, vedi? Tranquillo, molto cerine Pomeriggio una passeggiata, io farò E la sera la cena, tutti in famiglia Oggi è tutto mare Tutto mare E dal mare? Sì Mangerete qualcosa di particolare? Mangiate fuori, a casa? Picnic, dai, ecco, abbastanza spartano come pranzo Fate picnico al mare? Sì, al mare Penso che andremo al furlo Ah, al furlo? Una bella piadina, sì Al mare ci siamo stati ieri, l'altro ieri, l'altro ieri ancora Adesso, quindi oggi per cambiare Furlo Anche Andresi con gli amici Con la famiglia Con, penso, mio nipote Forse qualche amico ci devono avvertire adesso Facciamo un giro più affano Poi andremo in spiaggia Sì, lui è la mia segretaria Di dove siete? Viviamo a Padua Siamo, però, meridionali Siamo pugliesi Siete qui in vacanza? Sì Un paio di giorni, sì Come mai avete scelto questa meta? Perché le marche sono belle Ci piacciono Sono molto rilassanti Ci sono queste colline Che sono veramente splendide E c'è anche meno gente Rispetto ad altri posti, devo dire Si mangia bene Gente simpatica Ci piace Cosa fate il 25 aprile? Ah, non lo so Boh, vediamo una passeggiata al mare Qualcosa all'aria aperta? Ah, sì, sicuramente Vista la giornata Il mangiare? Un mangiare particolare? No, no Niente di particolare Sì A profita della festa? Sì, sì, sì Ecco, magari un invito da qualche amico Dato che non ho voglia di cucinare Però la stai riprendendo Sì, ecco, anche lei Immortalata da due parti Sì Sono TV e l'amica Io adesso ho fatto la mia camminata della salute Ecco Poi vado al mare Al mare, quindi un po' di relax Poi mi rilasso E poi si ricomincia E si ricomincia Un giorno, mezza settimana Va bene Va benissimo Va benissimo A posto E ricordiamo questo 25 aprile Speriamo che la testa di qualcuno si metta a posto Ecco, un giorno non solo di festa Ma anche di riflessione Da pensare Da pensare molto Grazie a tutti Grazie a tutti A presto